Oramai è diventato anche consuetudine e quindi diciamo tra l'altro anche di buon auspicio perché negli ultimi anni abbiamo avuto anche buoni risultati sportivi e quindi lo facciamo sempre volentieri, insomma è un momento per stare insieme, per condividere questi momenti che poi accrescono sempre di più di noi la fidelizzazione e quindi siamo tutti felici. Ecco una serata ricca, piacevole, anche aglietata dalla musica, insomma come è stata pensata una serata come questa? È una serata diciamo veramente piacevole, deve essere lo spirito virtus diciamo di leggerezza, proprio di saper stare insieme bene e poi tra l'altro dicevo prima i musicisti speriamo di non scalare ancora altre vette perché siamo anche abbastanza scaramantico, quindi diciamo quest'anno l'unica cosa che è cambiata è la location però diciamo cerchiamo sempre di essere, di confermare tutti, anche i giocatori abbiamo confermato dalla passata stagione quindi cerchiamo di confermare anche quelle che sono le certezze della Virtus e magari quest'anno è un anno importante per noi migliorarci ancora di più e cercare di fare sempre meglio. Grazie.